Questi li ho finiti proprio questa settimana, i due futuri candidati per l'America, Trump e Hillary Clinton. Tutte e due formati molto grandi e niente, io mi auguro proprio per l'America che vinca la persona più giusta per loro, per gli americani. Ieri mi ha chiamato un mio cliente da New York e abbiamo parlato di varie cose e poi lui mi diceva Sai Jenny, qui stamattina si stava parlando molto di Donald Trump e come previsioni ieri si parlava che stava un po' più avanti di Hillary. Io poi gli ho chiesto ovviamente per New York cosa ne pensano di Trump e cosa di Hillary. Per loro americani andrebbe meglio la Hillary Clinton, però ovviamente ci può essere pure un cambio di scena e come ho detto comunque speriamo che vinca il migliore.